I musei di Bassano non sono e non possono essere un parcheggio per opere d'arte, dal quale pescare a piacimento, come è successo per la Pala di Sant'Anna di Jacopo da Ponte. A dirlo è l'assessore regionale Elena Donazzan. Io sono rimasta esterefatta perché quella è un'opera che parla di Bassano, è bassanese fin nella sua lunghissima storia. La vicenda della Pala di Sant'Anna riporta in auge la necessità di creare un rapporto diverso fra Bassano e il mondo della cultura. Dobbiamo fare in modo che ci sia un rapporto autorevole però tra la città di Bassano, tra il museo di Bassano e le gallerie, perché si possono trovare delle modalità diverse. La Pala però deve tornare a Bassano del Grappa. L'assessore rifila anche una bacchettata al sindaco Elena Pavan per il modo in cui la Pala se n'è andata da Bassano. Però come si fa a non sapere che questa Pala è in transito? Come si fa a non sapere o a sottovalutare che questo bene di straordinaria portata culturale, storica, lascia Bassano nella notte sotto traccia? Non mi sono accorto. Ecco, questo non è accettabile perché la forza dell'autorevolezza sta nel dire c'è stato qualche errore, va detto che c'è stato qualche errore, rimettiamo insieme le cose, troviamo una nuova alleanza tra Venezia e Bassano del Grappa e riportiamo questa Pala qui. A questo punto è importante che Bassano riacquisti quel ruolo di grande rilievo che aveva un tempo. Abbiamo conosciuto stagioni di grandi mostre, di mostre che facevano venire opere dall'hermitage che hanno chiamato i turisti del mondo a Bassano del Grappa. Poi piano piano questo nostro museo si è spento, è diventato quasi residuale, quasi un parcheggio. Ecco, forse è così che è stato inteso quando si è trattato di venire a recuperare una Pala non valorizzata abbastanza. Allora io vorrei relazioni con il Museo delle Gallerie, vorrei relazioni con il Museo di Vicenza, vorrei relazioni più forti dove però l'identità, che è quella che richiama anche i turisti, è che Jacopo Bassano sta a Bassano del Grappa.